Quello che mi ha sorpreso in questa seconda amichevole, così come nella prima, è la grinta e la voglia che ci hanno messo. Sì, sì, mi ripeto che la ricerca dell'atteggiamento in questo momento, chiaramente sono partite facili, però sai, l'atteggiamento sbagliato non è bello perché c'è comunque tanta gente che ci viene a vedere e ha voglia di venire a passare una giornata un po' più al fresco, immagino, e anche magari di belle giocate, di grinta, perché vogliamo dare questa impronta sin da subito, anche perché poi arriveranno partite dove sarà necessaria, quindi è meglio allenarla sin da subito, stiamo cercando di calibrare un po' i carichi, anche perché troviamo comunque del caldo importante anche qua, i ragazzi stanno facendo gli allenamenti importanti, domani infatti cambiamo anche un po' il programma, lascerò la giornata completamente libera, si può dire, per riprendere il lunedì che ci porterà alla settimana della partita, dove dovremo cambiare ulteriormente un po' i carichi, sempre con un occhio fisso che il campionato nostro inizierà comunque il 29 agosto. Senti, può essere anche la competizione tra di loro perché ci sono 25-26 titolari? Beh, è chiaro, poi qualcuno in prova, qualcuno voglio farsi vedere, qualcuno... No, ma credo che sia una squadra mentalizzata, sin dall'anno scorso, vi ho ripetuto più volte e voglio rimarcarlo, che ci sono giocatori, giocatori che hanno una mentalità acquisita col tempo qua e che la portano agli altri, e quindi io sono un allenatore che concede anche negli spazi comuni anche una certa libertà, ma deve essere conquistato giorno per giorno. Senti, sei tu che hai voluto queste tre amichevoli prima di Palermo molto leggere sotto un certo punto di vista dell'impegno? Sì, perché al di là siamo comunque tanto lontani dalle partite che verranno, anche perché le partite importanti del campionato siamo molto lontani, è uno stress fisico eccessivo, anche rischioso per gli infortuni, e pertanto siamo in una fase comunque di preparazione, non ci possiamo permettere, anche quando abbiamo qualche fastidio, fermiamo il giocatore, sarà così anche per i partiti del Palermo, solamente i giocatori che staranno molto bene e verranno la partita. A proposito di Palermo, conta qualcosa, cinque gol che ha preso col Pisa? Ma no, noi l'abbiamo visto in diretta, no, non credo, nel senso che ognuno poi vive la preparazione al suo modo, chiaramente loro hanno un campionato molto più vicino, fanno partite ovviamente molto più competitive rispetto alle nostre, ci sta, è normale che ci sia, che sia così, però credo che saranno quasi pronti per il campionato loro, quindi noi invece non saremo per nulla pronti per il campionato, ma noi cercheremo di essere al massimo di quello che può essere in questo momento. Quanta grinta in queste partite, anche se amichevoli? Sì, potrebbero, potrei dire delle cose che magari sono scontate, che si dicono ogni anno, no? Però stiamo mettendo della benzina abbastanza importante sulle gambe e improntare un certo percorso all'inizio, fasi che comunque durante il campionato ci ritroviamo determinate caratteristiche che comunque magari non abbiamo avuto lo scorso e che potrebbero darci una mano per migliorarci, perché tanto alla fine tutto quello che si fa nel mondo del calcio lo si fa per migliorarsi e basta. Però vedo che c'è anche un passaggio sbagliato, un gol sbagliato, vi dispiace? Beh, questo fa parte del professionista, si cerca sempre la perfezione, che poi la perfezione non esiste perché è irraggiungibile, però veramente si fa un qualcosa sempre al massimo per far sì che comunque ognuno di noi porti quella piccola percentuale che possa dare frutti. Hai ancora in testa qualcosa dello scorso anno, il finale di campionato, la promozione è mancata incredibilmente o basta, è tutto buttato alle spalle? Sono una persona abbastanza coerente e trasparente e vivo la vita pensando al futuro e al presente, tutto quello che fa parte del passato è passato e ci metterò al massimo per avere un futuro migliore. A cominciare da Palermo dove sarebbe fantastico riuscire poi ad affrontare il Torino? Beh, è sicuramente una bellissima vetrita in uno stadio che non ha nulla da invidiare ai campi di Serie A, sicuramente affrontiamo una squadra che al momento è del nostro pari livello perché comunque non hanno fatto magari degli acquisti particolari di categoria superiore, hanno dei giocatori molto molto forti e importanti, lo hanno dimostrato, quindi dovremmo essere bravi nel studiarla bene in settimana e poi proviamoci, proviamoci perché vogliamo dimostrare che noi siamo migliorati in un qualcosa. Sei arrivato all'ultimo minuto, forse non volevi più tornare a Reggio Emiliato? No, no, è stata un po' lunga, mi dispiace infatti aver fatto aspettare così tanto tutti, però la volontà era quella di tornare, poi mancavano solo gli ultimi dettagli e per fortuna poi si è concluso tutto nel mio re dei modi, non vedevo l'ora di riabbracciare tutti i ragazzi. Ma non è che non vedevi l'ora di andare in Serie B? No, 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 alla fine erano delle voci di concreto, niente di che abbiamo aspettato così per valutare qualcosa, però comunque come priorità era questa qui fin da subito, quindi C per C non c'era proprio discussione, in caso di B forse qualche piccola idea, però comunque era da vedere, comunque avrei valutato lo stesso. E adesso sono cavoli di Guglielmotti? Adesso prima di tutto lo aspettiamo che sta recuperando dall'infortunio e poi ci sarà lo stesso spirito dell'anno scorso, insieme ci daremo una mano a vicenda per fare un altro bel campionato. Lo sai che con Guglielmotti che non ha ancora recuperato forse tocca a te a Palermo, come sei messo? Sì, no, a casa mi sono allenato da solo, però non è la stessa cosa con la squadra, loro vanno già a mille, mamma mia. Spero questa settimana di mettermi a loro pari e di farmi trovare pronto in caso se il mister mi deciderà di farmi giocare lì a Palermo. Quanto tempo ci hai messo a dimenticare Feralpi e Saloreggiano? Un po', dai, per fortuna è servito il periodo a casa, ho staccato con la famiglia, con gli amici, quello lì è il tuo casano migliore per azzerare e ripartire. Però ripartiamo da lì perché è stata comunque un'annata bella da ricordare e partiamo proprio da lì, più forti di prima. Ma è vero che hai detto di no al Como per venire a Reggio? Sì, è vero, c'era anche un'offerta del Como e comunque la Reggiana mi ha fatto sta offerta già da un po' di settimane che mi volevano ed era quasi impossibile dire di no. Ma ti hanno detto della rivalità che c'è tra Reggio e Parma? Eh certo, certo, ne sono consapevole, sì. Però tu hai detto io vengo qua. Sì, sì, vabbè, diciamo che anche le due società si sono messe d'accordo e per me è una grande occasione di mettermi in mostra quest'anno. Sì, ma tu hai giocato dieci partite in Serie B, quattro non hai preso gol, hai ricevuto tanti complimenti, non ti era venuta la voglia di rimanere in Serie B? Sì, ma sinceramente qua mi hanno fatto vedere il progetto, ho visto che comunque puntano a salire in Serie B e so che la Reggiana è una grande società qua. Spero di trovare continuità e comunque di andare tutti insieme in Serie B. Quando hai visto il progetto c'era scritto portiere titolare Turk? No, non c'era scritto portiere titolare. Sì, dai che c'era scritto. Non c'era scritto portiere titolare Turk, io me lo devo fare tutto bene in campo e solo il campo poi è il mister, si vedrà. Martin, allora, qual è il tuo punto debole se ce l'hai? Vabbè, di sicuro posso migliorare un po' su tutto. Vabbè, il mio punto debole forse posso migliorare un po' il gioco con i piedi. Ma come? Mi hanno detto che hai un sinistro da brasiliano. Vabbè, sinistro proprio da brasiliano no, diciamo che io sono un po' ambidestro, mi trovo bene con entrambi e devo migliorare il mio piede forte. Però se il tuo punto debole hai i piedi siamo tranquilli perché il portiere deve usare le mani, no? Vabbè, certo, certo, però anche nel calcio moderno comunque bisogna che il portiere giochi tanto. Senti, oggi ho fatto la telecoronica, a un certo punto mi era venuto voglia di dare il microfono a te perché parlavi più te del sottoscritto, ma parli sempre così tanto. Vabbè, questo è un mio punto di forza, devo dire che comunque tanti allenatori mi hanno detto e così io già da piccolo questa cosa ce l'avevo e comunque mi aiuta anche a me per stare dentro la partita. Ma tu dicendo bene avresti anche il coraggio di dire a Rozzo vai a destra, vai a sinistra? Sì, vabbè, ma penso che comunque questa cosa lo aiuti, cioè se può aiutare la squadra, perché no? Io so che magari qualcuno a Parma non sarà contento, ma noi vogliamo andare in Serie B, lo sai, eh? Eh certo, lo so, lo so. Grazie.